Diamo uno sguardo agli appuntamenti sportivi di questo fine settimana, cominciando da sabato 5 dicembre. A scendere in campo domani toccherà la pallavolo maschile con il pianeta Sport Volley, reduce da una sconfitta in trasferta contro la prima della classe, il Marcianise. Durante la settimana gli uomini di Mister Ferrara hanno lavorato duro e con determinazione, lasciandosi alle spalle la battuta d'arresto subita a Marcianise, lo scorso turno. Ora è tempo di pensare al match casalingo contro la Tripalda. alle ore 18.30 presso la palestra San Pietro. Per i pallavolisti quello di domani sarà un match cruciale per il proprio cammino. Per loro la parola d'ordine è non mollare.